Aumento flop via libera della console per Atlanta, venerdì l'ultimo, inutile appello, così finisce Veneto Banca con Vicenza alla Banca Veneta. Domani Gran Bretagna al vuoto per uscire dall'Unione Europea, il terzo mercato della marca, c'è il rischio di gravi ripercussioni sulle esportazioni. Lo scultore Bagliana mette all'asta una delle sue opere per aiutare il comune di far appignorato, intanto l'udienza slitta a luglio. Nuova assa per l'ex hotel in consiglio, polemico Zanoni con Zai, a domenica 4.000 persone hanno detto no alla vendita, perché non li ascolti? Le immagini del venditore di Panini che ha rischiato di essere travolto per un ristoro non pagato, la Digos denuncia i protagonisti, 5 ultra del Treviso. Grabbe della solitudine in via Boccaccio a Fiera, 94 anni morta da settimana e ravegliata dal figlio disabile mentale. Saggio sui confini, Umberto Eco, il rapporto padre e figli nell'arte, ecco i temi affrontati dagli studenti trevisiani alla prima maturità. Narrativa e saggistica per il 35esimo premio commisso, selezionati i finalisti che si sfideranno il 1 ottobre ai 300. Buonasera, quest'oggi è stato l'ultimo giorno utile per l'aumento di capitale per Veneto Banca, per quanto riguarda gli azionisti già all'interno della società, dell'attuale S.P.A. L'aumento di capitale non è andato bene, fino a venerdì ci sarà l'apertura invece a azionisti esterni, ma anche lì è ben difficile riuscire a raggiungere delle quote interessanti per evitare l'arrivo del fondo Atlante. E quindi pare proprio che stia tramontando il sogno di una banca Veneta. Veneto Banca è in Atlante. Alle 18 si è chiusa l'offerta delle azioni per l'aumento di capitale a un miliardo. E il risultato è stato deludente. Appena l'1% è stato sottoscritto, ovvero 10 milioni di euro dai soci. Così il fondo voluto dal governo, con intesa San Paolo e Unicredit, oltre a cassa depositi e prestiti, coprirà il restante 99% delle quote, ovvero 990 milioni di euro. Veneto Banca, come popolare di Vicenza, da oggi unite in un destino che, con tutta probabilità, vedrà la fusione di quelle che sono stati i colossi economici del Veneto rampante. Quello delle aziende vincenti e talvolta spregiudicate, ma anche delle imprese oggi pesantemente indebitate con la crisi. Una cosa è certa, con Atlante le azioni sono a 10 centesimi e non c'è il momento quotazione che possa smuovere il valore. Disperazione è carta straccia per gli azionisti che le possedevano quando sono arrivate a 41 euro. Speranza invece per quelli che le hanno acquistate, perché consigliati. Sul fronte degli azionisti sono da segnalare due notizie molto importanti. La recente ordinanza del Tribunale di Venezia, che ha dichiarato nulli i finanziamenti baciati, e questa è una notizia molto importante, e poi anche l'istituzione dell'arbitro finanziario, a partire da settembre, a cui gli azionisti delle due banche popolari potranno fare i ricorsi. Finanziamenti baciati, ovvero soldi che la banca prestava perché il cliente comprasse anche o solo azioni della stessa, come garanzia di fidi o mutui. Di conseguenza, se questa ordinanza verrà confermata dalle sentenze, i debiti contratti dagli imprenditori per acquistare le azioni verranno cancellati. Un'ordinanza che cambia non poco i bilanci delle banche. Sono degli importi assolutamente rilevanti, perché Vicenza è circa 1 miliardo e 200 milioni, mentre invece Veneto Banca sono circa 300 milioni di euro. Valori che appesantiscono ulteriormente Veneto Banca, colpita da una costante emorragia di capitali. Da domani di fatto inizia l'inesorabile iter di ristrutturazione delle banche, con il nuovo padrone che non ha nascosto un piano di lacrime e sangue per sportelli, dipendenti e non solo. Inevitabili le ricadute su aziende, fidi e castelletti, colpito al cuore nella propria economia da un mandante ben preciso. La grande finanza ha messo la parola a fine alla vicenda, anche Veneto Banca come Vicenza diventerà di proprietà di Atlante e di conseguenza le banche spariranno sostanzialmente dal territorio. E sull'azione di Veneto Banca sta indagando anche la Guardia di Finanza. Sentiamo. Veneto Banca come popolare di Vicenza. Anche nell'istituto di credito di Montebelluna, come in quello del capoluogo berico, la Guardia di Finanza sta mettendo la lente per capire come sono state vendute le azioni. Lo ha detto oggi il generale Giuseppe Mango, comandante interregionale della Guardia di Finanza. C'è stata un'ulteriore perquisizione presso la sede della Banca Popolare di Vicenza, una perquisizione delegata dall'autorità giudiziaria vicentina ed eseguita dal nucleo di polizia deputare di Vicenza e dal nucleo speciale di polizia valutaria, tesa ad acquisire ulteriore documentazione ritenuta utile per il proseguo delle indagini. Indagini che, tutto sommato, per essere poi essenziali, ruotano intorno all'ipotesi di finanziamento, di acquisto di azioni da parte degli stessi clienti della banca. Aggiunge anche Veneto Banca, più o meno coinvolta nello stesso filone, anche se è un'indagine diversa, ma con modalità analoghe rispetto a quelle che abbiamo riscontrato presso la Banca Popolare di Vicenza. Insomma, indagini, aumenti di capitale che non vanno, Veneto Banca e Popolare di Vicenza strette nello stesso tragico destino, per certi versi tragico perché c'è una ristrutturazione e chissà che fine faranno. Quindi chiediamo anche a voi questa settimana cosa ne pensate. Banche Venete, addio, dite la vostra attraverso i numeri di telefono, con un sms, un fax, anche una telefonata, e noi come sempre registreremo le vostre sensazioni per quello che veramente è una pagina economica triste che si sta concludendo all'interno della nostra provincia e della nostra regione. Rimaniamo in tema economico perché domani sapete che c'è il Brexit, ovvero il referendum della Gran Bretagna, che però interessa molto sia il Veneto che la marca. Perché tra l'altro c'è un grande numero di trevigiani che vivono e lavorano a Londra, ma soprattutto perché la Gran Bretagna è il terzo mercato della nostra provincia, della regione Veneto. Tanti prodotti che esportiamo, in particolare macchine utensili, di alta precisione, soprattutto prosecco, ha aumentato nel primo trimestre del 2016 del 38%, superando addirittura il mercato americano. Chiaro che se il Regno Unito uscisse dall'Unione Europea ci sarebbero contraccolpi sulla nostra economia molto simili, sottolineano gli analisti, a quelli accusati dall'embargo russo. E adesso invece ci trasferiamo, proprio per parlare di temi economici ma anche di debiti, ci trasferiamo a Farra di Soligo, perché si arriva addirittura così al gesto di buona volontà per cercare di salvare i conti del Comune. Potrebbe essere l'arte a salvare Farra di Soligo dal tracollo. Lo scultore Carlo Balliana, nativo di Farra, ha deciso infatti di mettere all'asta una delle sue opere più famose, quotata per un valore di 200.000 euro, per contribuire alle spese del Comune, cui il giudice ha pignorato 4 milioni di euro, per via di una causa con alcuni privati, che potrebbero vedersi riconosciuto un risarcimento di 12 milioni, il che metterebbe l'amministrazione nelle condizioni di non poter più pagare alcun servizio. Io ho messo a disposizione una scultura alta a 3,5 metri, intitolata Aurora a Sangallo, perché nel Comune di Farra di Soligo c'è una chiesa, un'antica chiesa, che si chiama Sangallo, e l'ho dedicata proprio al Comune di Farra di Soligo, che la mettono all'asta. L'opera di Balliana in vendita non sarebbe che una goccia nel mare delle spese che l'amministrazione si troverebbe ad affrontare. L'iniziativa dell'artista è sicuramente più simbolica, diciamo, nel senso che lui dice, ci ha fatto questa donazione per dire, mettete all'asta questa mia opera e con il ricavato iniziate ad appianare quelli che sono i debiti oppure date una mano a quelli che hanno più bisogno in questo periodo. Poi si sa benissimo che ogni euro che arriva in cassa in questo momento non finisce nelle mani dell'amministrazione, ma finisce in altre mani. Il sindaco da parte sua spera che il giudice rimetta la sentenza. E adesso andiamo a Montebelluna, altri guai per quest'altro Comune. Qui si parla di mancate assunzioni. Niente assunzioni in Comune a Montebelluna, neanche delle figure necessarie. Grazie ad un'interpretazione originale della normativa effettuata dalla Corte dei Conti, per il momento ha sospeso l'avviso della ricerca di un dirigente a contratto dei lavori pubblici e dell'urbanistica, così come sono bloccate le assunzioni del personale. È una situazione drammatica e paradossale che è condivisa da moltissimi comuni veneti e che vede penalizzati, come al solito, gli enti virtuosi e premiati quelli non virtuosi. A denunciarlo il sindaco appena rieletto, Marzio Favero, che annuncia l'intervento al governo dell'Associazione Nazionale Comune d'Italia e dell'Associazione Comune della marca trevigiana. Intanto comunque le assunzioni appunto sono sospese. E continuando in termini di polemica con e tra istituzioni, andiamo invece in Cansiglio, perché la Regione rimette all'asta l'ex hotel San Marco in Cansiglio. A darne notizia il consigliere trevigiano Andrea Zanoni, da sempre contrario all'alineazione della struttura. Zanoni ha riproposto la questione nel corso del Consiglio regionale di ieri direttamente al Presidente Zaia, sottolineando che la concessione sarebbe più gradita alle associazioni ambientaliste, anziché la vendita definitiva ad un privato. Contestata tra l'altro domenica scorsa in Cansiglio con una manifestazione che ha visto la partecipazione di più di 4.000 persone. La maggioranza sconfessa se stessa, conclude Zanoni, nel 2012 tra i consiglieri che presentarono la mozione per tutelare e valorizzare il Cansiglio c'erano anche il capogruppo di Forza Italia Dario Bond e soprattutto Federico Caner, ex capogruppo e attuale assessore della Lega Nord. La mozione fu votata all'unanimità da maggioranza e opposizione. Mi chiedo, conclude Zanoni, cos'è che ha fatto cambiare l'idea in maniera così netta la Regione. E adesso invece cambiamo pagina, cominciamo con la cronaca. Guardatevi le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un fatto accaduto il 23 aprile scorso in stazione a Treviso. Le modalità in cui sono avvenuti i fatti potevano anche provocare delle lesioni superiori. Ha rischiato di essere investito dall'auto che ha tentato di fermare e poi da altre che stavano transitando ad un gol put davanti alla stazione. E' tutto per dei panini non pagati. Protagonista è il 55enne titolare di una paninoteca ambulante che la notte del 23 aprile aveva cercato di fermare 5 giovani trevigiani tutti tra i 25 e i 30 anni che dopo aver consumato panini e bevuto birre avevano deciso di andarsene senza pagare. E come si vede dalle immagini della videosorveglianza del piazzale della stazione l'uomo si era attaccato all'auto dei giovani nel tentativo di fermarli. Per tutta risposta il conducente della panna aveva accelerato rischiando di travolgere il commerciante che mollata la presa era finita sull'asfalto in mezzo alla strada facile bersaglio di altre auto in corsa. Il 55enne era finito all'ospedale con una spalla allussata e 30 giorni di prognosi. Stando ad alcune testimonianze l'attenzione si era subito indirizzata verso gruppi dell'estrema destra trevigiana da qui il coinvolgimento della Digos. La stessa persona offesa ed un testimone che erano lì presenti ci hanno subito indirizzato verso un gruppo di giovani che saltuariamente frequenta il chiosco dandoci delle indicazioni dopodiché abbiamo naturalmente acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina abbiamo fatto degli ulteriori accertamenti soprattutto in relazione a colui che hanno riferito essere il guidatore e siamo giunti appunto alla chiusura di questa attività che ha portato alla denuncia del guidatore per lesioni aggravate di tutti quanti 5 soggetti riconosciuti successivamente da noi per insolvenza fraudolenta. E adesso invece il dramma della solitudine a Treviso era detenuta da settimane e continuava ad essere vegliata dal figlio disabile mentale dramma della solitudine ieri pomeriggio in via Boccaccio nel quartiere Gesca, la trafiere Selvana scoperto quando l'uomo ha chiamato i soccorsi la donna, una 94 anni, stando alle ultime informazioni giaceva immobile sul letto e il figlio era convinto che dormisse. E adesso invece torniamo a parlare della Digos perché pare si stia arrivando a una conclusione l'indagine della Digo sull'aggressione di sabato notte al gay pride di Treviso bocca ancora cucita in questura ma ottimismo per individuare i responsabili del fatto insulti e pugni che hanno cercato di gettare un'ombra sulla riuscita del Treviso Pride fraisi omofome urlate contro uno degli organizzatori che è stato brutalmente aggredito da una quindicina di uomini mentre insieme ad un'amica stava smontando le ultime attrezzature in piazzale Burchiellati Simone Carnielli, uno degli organizzatori della Carmes dedicata ai diritti degli omosessuali è stato circondato da un gruppo di ragazzi che lo hanno deriso e offeso con epiteti razzisti e che adesso pare verranno prontamente come dire denunciati dalla Digos che sta arrivando a loro tramite soprattutto gli impianti di videosorveglianza in zona continuiamo sempre con la cronaca però ci spostiamo in quel di Silea guardate le immagini che arriva attraverso Facebook perché i controlli arrivano anche attraverso Facebook Paura Silea, un uomo di 35 anni si è ritrovato i ladri in casa è caduto ieri sera in via Tezze il 35enne Riccardo Converti ha poi immediatamente denunciato i fatti su Facebook e ha detto di aver sentito i ladri dal piano di sotto è sceso e si è ritrovato due sconosciuti in cucina erano entrati dalla finestra quando l'hanno visto sono scappati a bordo di una multibaggrigia guidata da un terzo complice l'uomo ha chiamato i carabinieri sul posto che hanno fatto tutti i rilievi e comunque in casa non sarebbe stato rubato nulla però appunto ha messo, ha postato la situazione su Facebook proprio perché se vedete un'umu multipla grigia sospetta sappiate che potrebbero essere appunto dei ladri e adesso un'altra notizia però che arriva invece da Padova ubriaco e armato con un coccio di bottiglia Paura Padova per un immigrato ganese residente a Treiso che lo ha fermato la polizia ferroviaria prima che accadesse il peggio a chiamare gli agenti sono stati alcuni viaggiatori spaventati che alle 11 hanno visto l'uomo aggirarsi barcollando vicino al binario 5 della sezione i poliziotti hanno bloccato con forza lo straniero e lo hanno portato al comando per sua stazione per identificarlo e denunciarlo quando l'hanno perquisito è venuto fuori anche un coltello con una lama di 21 centimetri quindi non male è stato denunciato per porto ad armi abusivo e ubriachezza molesta e con questo chiudiamo la pagina di cronaca apriamo invece quella degli esami di maturità oggi prima giornata il tema era l'italiano impauriti, angosciati, emozionati eccoli i maturandi che oggi hanno affrontato la prima prova di maturità 5 le tracce per l'analisi del test un brano di Umberto Eco per storia le donne al voto nel 46 e poi ancora un saggio economico sul PIL il rapporto padre figlio in ambito artistico e infine una riflessione sui confini i giovani del linguistico Canova l'hanno affrontato così è andata bene è stato abbastanza facile l'ultimo quello che ho fatto io sui confini invece è molto difficile secondo me quello di Eco che dicevamo prima ce l'aspettavamo insomma visto che è morto quest'anno ho scelto il saggio breve di ambito artistico e l'apporto padre figlio avevate dormito l'altra notte? no, per niente anche... era troppa l'ansia è andata bene alla fine sono fatto l'ultima tipologia la tipologia di che cos'era? era un tema sui confini sui confini nelle sue varie eccezioni chiaramente e sì, era parecchio interessante ho scelto quella perché potevo esprimermi al meglio io ho scelto la tipologia B tecnico-scientifico quindi il viaggio nello spazio con riferimenti a soprattutto la scoperta dell'acqua su Marte domani e dopo domani seconda e terza prova e poi finalmente le vacanze progetti per le vacanze? viaggio di maturità e si spera un lavoretto dove vai in vacanza? oggi andiamo in Spagna con i tuoi amici qui? con i miei compagni di classe e vedremo di divertirci vacanze sicuramente dove vai? beh Palma di Mallorca ma andiamo verso con i miei amici diciamo verso fino agosto inizio settembre quindi nel mezzo vedremo cosa fare probabilmente andrò a Padova a fare psicologia e vacanze però si fanno le vacanze speriamo dipende anche dal tempo chiaramente domani un'altra prova e invece rimanendo in termini culturali parliamo del premio comisso che appunto il primo di ottobre avrà la sua trentacinquesima finale giuria tecnica del premio comisso presieduta da Rolando Damiani ha selezionato le due eterne finaliste appunto della trentacinquesima edizione del concorso nelle sezioni narrative italiane e biografia nella narrativa italiana i selezionati sono L'amico ebreo di Giampiero Bona Questa vita tuttavia mi pesa molto di Edgardo Franzoncini e Animali e no di Umberto Pasti nella biografia di Questo amore non si deve sapere di Ritanna Armeni Tuccide di Luciano Canfora Ponzio Pilato Un enigma tra storia e memoria di Aldo Schiavone la scelta è avvenuta con le modalità online introdotta quest'anno all'interno della prima rosa di opere 7 per la narrativa italiana e 8 per la biografia individuate nella prima sezione tra il 17 e il 19 giugno le due terne saranno ora inviate alla grande giuria composta da 60 lettori che poi voteranno in seduta pubblica i super finalisti delle due sezioni in occasione della finale del premio commisso a Palazzo dei Trecento il prossimo appunto primo ottobre e siamo alla programmazione non perdete anche stasera l'appuntamento con Focus il talk più seguito al nord-est dal 21.05 in studio con il nostro direttore Luigi Bacialli ci saranno Bruno Cesaro Nicola Talmi Domenico Presti Manuel Brusco Matteo Celebron Luigi Amendola Riccardo Sciumschi Patrizio Mietello come sempre aspettiamo i vostri sms con Mietello sicuramente si parlerà di Veneto Banca e con questo è tutto io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento a domani mattina 8 e 10 saremo in compagnia del sindaco di Fonte grazie a tutti e buona serata a domani a domani a domani